Allora, adesso vediamo come funziona il sottomarino Così, premendo sopra Si accende Come vedete i elementali si accendono solo con l'accensione del telecomando Bene Adesso mettiamo il sottomarino in acqua Bene Un'inquadratura giusta Ok Et voilà Come vedete il sottomarino staggava fondamentamente E subito l'accensione parte Allora, come comande abbiamo destra, sinistra Poi va su E poi va giù anche Comando giù che praticamente Dei fondi basi ci permette di fare manovra Girarci e andare avanti Allora, facciamo anche notare adesso Un secondo Le luci che si vedono durante la notte Allora, spegnere le luci Ecco Normalmente è fatto per girare in baschi più grandi ma Come vedete anche in baschi piccoli E' più difficile da manovrare ma Va perfettamente L'unica cosa è che non funziona in acqua salata Perché se no si corrugano il sistema interno e tutto Ma è perfetto per piscine, laghetti E' questo Un secondo Un secondo Faccio